ciao a tutti oggi vogliamo parlarvi di twitch di nuovo ma questa volta vogliamo soffermarci sulle vecchie trasmissioni twitch permette di conservare le vecchie trasmissioni fino ad un massimo di 14 giorni che possono estendersi a 60 nel caso in cui siate twitch prime turbo o partner però vi è un piccolo trucco che vi permette di conservare le vecchie trasmissioni per sempre quindi se ad esempio come nel nostro caso avete creato delle raccolte per offrire ai vostri spettatori la possibilità di rivedere i vostri vecchi gameplay allora potete conservarli per sempre per fare questo è davvero molto semplice clicchiamo sull'icona del nostro canale e clicchiamo su video producer attendiamo il caricamento dei nostri video come potete vedere i video sono tutti in evidenza quindi diciamo questo lavoro è già stato fatto se avete un video che non è in evidenza potete renderlo tale per fare questo adesso creiamo un video test quindi andiamo in live con un un video di prova così vi do la possibilità di vederlo da voi quindi attendiamo che venga creato un video di prova che non è in evidenza in questo modo diciamo vi do ecco qua la differenza tra un video video in evidenza è un video in trasmissione passata interrompiamo la trasmissione ora abbiamo questi video questi sono tutti in evidenza quindi diciamo twitch non li cancellerà questo video invece viene visto come una trasmissione passata quindi verrà cancellata tra 14 giorni o 60 se volete conservarla cliccate su in evidenza si aprirà una nuova pagina dove potete selezionare la parte del video che volete conservare quindi se volete conservare tutto il video vi basterà trascinare la barra gialla a sinistra e a destra e cliccare su crea contenuti in evidenza dare il nome il tag la descrizione e quant'altro e cliccare su salva modifiche nel giro di pochi secondi vi troverete un doppio video quindi abbiamo sia la trasmissione passata sia quella in evidenza quindi possiamo tranquillamente cancellare la trasmissione passata e conservare solo la trasmissione in evidenza che potrà essere naturalmente aggiunta alle vostre raccolte su aggiungi a raccolte e poi la possibilità di scegliere la raccolta che avete creato in precedenza o crearne una nuova